Musica Su proposta dell'assessore al patrimonio Bernardino Tuccillo e dell'assessore alle politiche sociali Sergio D'Angelo, la Giunta ha approvato la delibera con la quale si concede, incomodato d'uso gratuito, a La Resistenza, associazione di lotta all'illegalità e alla cultura camorristica, la sede dell'ex istituto professionale di Stato IPIA di Miano in via Ghisleri. La struttura sarà intitolata alla vittima innocente della camorra, Gelsomina Verde. In un territorio a forte impatto criminale come Scampia, noi affidiamo, assegniamo, incomodato d'uso gratuito all'associazione Resistenza Anticamorra, un'ex scuola, l'ex istituto professionale di Stato IPIA, una struttura molto imponente, molto grande, che versa in condizioni di degrado e di fatiscenza, l'associazione Resistenza Anticamorra si impegna ad adeguare questa struttura utilizzando finanziamenti pubblici e privati di imprenditori che sono sensibili al tema del riscatto di un territorio a rischio come Scampia. Noi vogliamo investire su un territorio che è segnato dalla presenza della camorra, ma che vede anche il protagonismo attivo di un associazionismo molto presente sul territorio e che sostanzialmente si propone di dare segnali chiari di riscatto e di riqualificazione di quel territorio. Mi pare una pagina importante della vita di questa amministrazione. Ma in realtà la nostra idea è quella di creare una rete inclusiva dove, a partire dalle associazioni, dalla municipalità, dal comune, dal mondo profit e non profit, creare un vero e proprio movimento che innanzitutto riesca all'interno del quartiere, che è l'emblema del quartiere delle mafie, creare alternative lavorative concrete alle piazze di spaccio, creare ovviamente opportunità lavorative per i minori, quindi toglierle dalle piazze di spaccio e dargli la possibilità di scegliere un lavoro onesto. Tutto questo è possibile realizzarlo attraverso il recupero di una struttura che è l'Ipsi di Miano, creare un'economia sociale alternativa a quella criminale, ma soprattutto chiudere una filiera, partire dal bene confiscato dove ci lavorano i ragazzi affidati dal Tribunale, prendere i prodotti del bene confiscato di Chiaiano, utilizzare all'interno di ristoranti e pizzeria sociale con i minori affidati dal Tribunale.